A Levone i carabinieri di Corio hanno individuato una famiglia dedita allo spaccio. In paese non è passato inosservato il viavai di ragazzi dalla loro abitazione a qualsiasi ora del giorno e della notte. I blizzi infatti ha dato fondatezza ai sospetti e la perquisizione ha dimostrato come padre, madre e figlio avessero messo in piedi un modesto business per la vendita di marijuana. Nel garage in camera da letto i carabinieri con l'ausilio del cane Quark hanno sequestrato abilmente nascosti 100 grammi di marijuana suddivisi in 28 dosi, 420 euro, due bilancine di precisione, vario materiale per il confezionamento, tre coltelli con tracce di stupefacente e una catana con lama di 66 centimetri. Il padre, un operaio 46enne, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la madre e il figlio 16enne sono stati denunciati. A Balangera, San Francesco al Campo, i militari della stazione di Matico, adiuvati dai colleghi di Lanzo, Barbania e Caselle, in due distinte operazioni, hanno denunciato per detenzione nei fini di spaccio uno studente diciottenne e un ventunenne in attesa di occupazione, che rifornivano numerosi giovani delle valli di Ranzo e Ciriè. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 230 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, nonché due bilancine di precisione e materiale per il confezionamento. Il padre del diciottenne, inoltre, è stato denunciato per detenzione abusiva di un'arma da fuoco, perché è stato trovato in possesso di un fucile Beretta calibro 9 ereditato da un parente defunto di cui non denunciava il possesso. I carabinieri di Venaria hanno inoltre arrestato due nomadi di 23-18 anni, domiciliati nel campo nomadi di strada germaniano per furto. Sono stati fermati subito dopo aver rubato rame in una ditta di Venaria.